Ciao a tutti amici benvenuti sui Giosmitono, oggi siamo qui oggi tornati a questo grande gioco per portarvi una partita su Midgard, che mappa del cazzo, insomma speravo in un'altra mappa però non lamentiamo, cerchiamo più che altro di sfruttare la posizione dove stiamo mausta. Vanne sono stato su Giosmitono, perché avevo voglia di portare questo gioco perché ho già prontato bene le parti però la prima è una battaglia in modalità titano con i cinesi la distruzione un'altra era che non due contro due mi ricordo come una squadra non è insieme quindi avevo sbagliato comunque deciso di portare perché la mappa modalità nomade e la modalità nomade a me piace parecchio stato commesso a casuale tutte e mi è uscita la mappa di midgard che piccola chicca la mappa di midgard e rappresenta in un'unica mappa presente nella demo e giocato quando ero piccolo e poter venda solamente fino a metà eroica la difficoltà già settata difficile tipo di pare non mi ricordo questo non mi ricordo c'era su un dio che ha detto che gli altri tu non mi poteva è stata rossa come molto particolare è stata un'esperienza particolare che comunque da piccolo non cercano quasi niente non mi divertivo la verità è sempre stato un gioco abbastanza divertente difficile si ma non troppo non troppo non troppo non troppo perché come sapete il gioco di oggi fa parte dei giove empires ma è tipo una specie di non spazio ma fino a poco non si segue una mentezza di quegli giove empires però è abbastanza godibile devo dire che è abbastanza godibile ci sono anche dei come posso dire legge delle limitazioni ovvero che non puoi costruire 466.842 turri di guardia A parte che questa è una modalità funghi quindi è ancora un po' più complicata la cosa perché ci fa attenzione a ciò che costruisci perché avrei dire che devo fare solo 5 in la vita fisica Prostagma Proseche Legge Etimis E tagge A me piace parecchio perché Le fanno tante partite O magari una sola partita fatta per bene Senza dover aspettare 60 anni per poter costruire qualcosa A me piace essere oggi nel gioco Prostagma Questa modalità fa assolutamente per me Proseche Ho insegnito un po' di mod Ho già fatto a dire che schiusi di pure rosso Questa è una mod Perché il gioco quasi usai sempre BOOM E basta Questo Vullo o me Vullo o me Vullo o me Eroica Andiamo Nel media pombo Prostagma Questo qua Questo qua Questo potenzimento dici da oro Proseche Ed è ottimo Semplicemente Facciamo dei miglioramenti nel magazzino Facciamo qualcuno anche qua nel guantino su Questo qua E' mobili Oh Prostagma E' Frito Proseche E' timbulo E' Adesso noi Adesso noi Spostiamo qua E' 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 Di Adesso Adesso Proseche E' E' Effettamente E' Grazie a tutti. 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 non mi aspettavo però tanto ho un sacco di favore bene ho passato solo costruzioni potenzialmente va bene modestamente va bene ragazzi il video vi sia piaciuto mettete un mi piace e noi ci vediamo un pasturino ciao ragazzi